Laboratorio artigianale Lampade d'Erpapi, ancora una produzione per l'Italia 4 Zampe Ollus, lampade con bottiglie, in questo caso CAD del Bosco di Franciacorta, riempita con sassolini sbrilluccicosi, non so se si riesce a vedere che sono tutti così tempestati pare dei brillantini, con paralume bianco, ma il paralume sopra si può cambiare, lo potete mettere come volete, tanti colori si possono adattare a questa lampada per sostenere le nostre attività. Italia 4 Zampe Ollus, la voce di tanti pelosetti del mondo.